Si trova sulla zipline di fattoria Occhiarellone, occhi... Però vediamo che ci fa, salta Non si sa come, ma l'ha preso Ah qua come sempre vogliono fare la loro bella kill e... Pulito! Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati con il secondo episodio della reazione alle vostre clip di Fortnite Mi raccomando vi invito a lasciare un bel pollicione in su fin da subito se volete altri episodi di questa serie E soprattutto se avete una clip di qualunque tipo che sia bella giocata, fail, bug, tutto Inviatemela a questo fantastico modulo qui che trovate nella descrizione Quindi partiamo subito da TheRealByte che vabbè sta giocando in creativa Per carità l'accettiamo Però sicuramente in pubblica diciamo che sarebbe stata un po' più carina Ma ci sta Andiamo avanti con la prossima clip e tozza Abbiamo Gabbo, anche qua siamo su creativa nelle box fight Attenzione, facciamo tutti con lui Per il momento mi sembra che sia un po' così Comunque si fa il primo Con una spensieratezza incredibile Arriva anche l'altro, l'ha distrutto Vai, che di piccola... Eeeh, tutti arrivano Raga, li ha laserati tutti e tre GG per il nostro amico Gabbo, ragazzi Soprattutto sta picconata così Ma poi con tutta questa spensieratezza li fa fuori Andiamo avanti con la prossima clip e tozza Non so che sia prossima ancora su creativa Giri incredibili... Ah, poi si ferma È tipo la stessa clip Esatto, la stessa clip che abbiamo visto all'inizio Ma con qualche giretto all'inizio Andiamo avanti con la prossima clip Qua mi sa che non siamo in creativa Oh, finalmente Allora, abbiamo Arsene Che si trova in uno di uno Sta salendo nel... Blu di pinzo di plum Ma dove va? Dov'è il nemico, ragazzi? Ah Vabbè, vabbè Almeno in pubblica, ragazzi Sì, non si sa cosa stesse facendo quello lì Però almeno in pubblica Ci sta Almeno così è Onestissimo GG Ma ora andiamo avanti Sempre con Arsene Sempre in pubblica Sì, però Con quel caccia cosa vuoi combinare? Salta piccolata Odesso Andiamo avanti Ora con, diciamo, Cristian Che si sta registrando dal telefono Però col caccia spala E fa headshot Da quanto? Ci fa vedere? Sì Da 269 metri Ma andiamo avanti Ritorniamo su creativa Con botta, raga Credo Attenzione Credo che voglia fare dei trickshot Un po' incrediboli Ce l'ha Non ce l'ha Eccolo qua Prende il bar Il nemico non so dove sia Ma ci sono zombie Eh sì, mi sa che erano Erano gli zombie, ragazzi Vabbè, non erano neanche gli attaccati Diciamo che comunque Anche se non è in pubblica E contro i zombie Però ci sta Ma ora andiamo avanti Con Dodo Che del genere Rotea un po' Ci sta Onestissima, ragazzi Bella clip Andiamo avanti Ora con l'Aiso Allora In 1v1 Con un nemico Là sotto E con quel nemico Che vorrebbe Ah, giustamente Un bel nosco E via Con Vittoria Real Ci troviamo adesso Su Fortnite Mobile Con Ricos Qualità che è un po' così Però vediamo che ci fa Salta Non si sa come Ma l'ha preso In che senso Scusatemi Vabbè, era lì che stava rompendo Non l'ha preso Ma il gioco dice No, tu l'hai preso L'automira su mobile È potente E quindi lo prendi Ah, andiamo avanti con Arsene Che mi manda un'altra clip Attenzione Sono rimasto Ce n'è uno in realtà Contro Vabbè, qua l'ho missa Vediamo un po' Arsene Che cosa ci vorrei mai combinare Sì, è lì Tu e il tuo convegno Lo volete trollare Salta via Un bel saltelino 360 No Che peccato Però lui non sa rendere Regà, peccato Io non so se lo rifà Se lo rifà E lo prende Così clean Ah Ah, che peccato Se l'avesse ammazzato Sarebbe stato veramente Tanta roba Andiamo avanti Ora con Hybrid Fire Allora Sta contro Un bel cagaga In realtà Si sta buildando C'è una pill fight Incredibola Però giustamente La chiude con un quick Pulito Regolare Cg Prossima clip Non si vede il nome Di codesta persona Però vediamo un po' Che fa Si trova Sulla zipline Di fattoria Occhiarellone Occhi Questa raga è insane Però Ma che ca... Ma 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 Questa qua per ora È la clip più insana Che abbiamo visto Pulito Ora è lì sul balconcino Lì Tra una bella bottazza Andiamo avanti Ora con Non lo so Non so chi sia Dei quattro Il nostro Comunque fatto sta Che sono quattro banane Sta registrando Dalla tv Ma vabbè Vediamo un po' Che ci combina Ah poi giustamente Bullizzano uno Quattro banane Che bullizzano Questa persona Così a caso Perché loro Volevano farlo Ma ora andiamo avanti Con freak Da replay Cos'è che ci vuoi vedere Salti un po' Poi vediamo Solo l'elicottero Ma no Che peccato Mamma mia raga Peccatissimo Vedere l'elicottero Giustamente Ma no Anche se non l'ha ucciso Ragazzi Direi clip onestissima Mamma mia Che peccato Ma ora andiamo avanti Con Zana Daniele Col bar L'edit Fatta al momento giusto Ma riguardiamolo raga Perché stava in uno Vi uno contro Non so chi Edit Colpa a caso Il no scopo di barret E via Colpa proprio lì Dove doveva andare Andiamo avanti Ora abbiamo Tsunamic room Attenzione Bella elcio Ragazzi In creativa Bella tra l'altro Sto mappa Magari potremmo farla In live assieme Mi segnerò il codice Perché mi sembra Tipo una mini battle royale Però vediamo Se ci fa anche altro Perché adesso C'è quell'altro Che sta Ah no Non l'ha preso E poi Come concludi Questo game Amico mio Così Mi sembra giusto Andiamo avanti Ora con Alleganzo Si trova in creativa Uno vi uno Con un suo amichetto E fino a qua Tutto regolare E il suo amico Si trova lì Perfetto Va di nosco Plomissa Picconata Niente Casca di sotto E ora Cos'è che fai Vorresti dirmi Che ti butti Si si butta Attenzione E patapinta Vabbè Ci sta Andiamo avanti Con la prossima clip Abbiamo Tomma Col caccia Lo vede Lo sente Lo percepisce Ce l'ha Sì però Ti vedo molto carico Vai che lo prendi Vai zì Vai zì Era incredibile Sì però Sta facendo i peggio calcoli Della vita Attenzione Alla fine Ha sparato Da tutta altra parte E poi E poi E poi lo prende così 241 metri Andiamo avanti Ora con Non lo so Non si capisce Molto bene Ma for Ah no Sempre di Alleganzo Ok Cos'è che ci conviene Alleganzo a sto giro Non mi ricordo Che clip abbiamo visto Prima Però C'è un bel Ah forse Quello era quello Che ha fatto prima Il quickscope Non è che fai Di nuovo un altro Quickscope Così Sempre sperando Che sia lui Perché non ne sono sicuro Ok Mette la jump E giustamente Lui sa Che ci andrà sopra E dice No Guardate esattamente Ecco in questo momento Dice No Dove credi di andare tu Andiamo avanti Con che inattenzione Con la veloce L'ha massacrato ragazzi Ma riguardiamo raga Perché non ho capito nulla Costruisce Modifica E lo distrugge CG Ma ora andiamo avanti Ah così proprio Sai che sta clip È stata rubata In qualche montaggio Però ci sta Ma ora andiamo avanti Perché abbiamo Non lo so Non vediamo il nome L'ha distrutto Ma riguardiamo Perché non ho capito Molto bene Lui sa che c'è Il nemico Lì sopra le scale Giustamente salta Un bel leggio Te puoi va a farsi Un bagnetto Andiamo avanti Con Mada Ma sta clip Credo che sia vecchissima Tipo di 17 Si sono fatta Attenzione Lo vede Sta volando E la No Come No Cioè GG tanta roba Come quello che abbiamo visto prima L'ha preso da una distanza Incredibola Ah beh Almeno alla fine Il colpo di grazia Gli l'ha dato O era un altro Eh no Mi sa che era un altro Sì perché è quello lì Al mantello Ah sì è un altro Arriva quello lì E niente Via Così Peccato che non l'ho ucciso il primo Sennò sarebbe stato veramente assurdo Però Facciamo finta che l'abbia ucciso ragazzi Ah andiamo avanti con la prossima clip Abbiamo Valex Usa la granata impulsi Barret Boom Headshot E un bello urletto Che comunque ci sta sempre Poi di nuovo Ancora Granata impulsi Caccia Boom E ancora un urletto Sì bro Hai fatto delle Delle belle cecchinate Possiamo dirlo Sempre in creativa Però ci sta Andiamo avanti Ora ci troviamo Nelle box fight Con banana Sì banana Ti vedo carico Ti vedo sul pezzo Ce l'hai Pabli quello vero Ehm Ok fa fuori il primo In un qualche modo Fortunatamente riesce a farlo Ma poi non finisce qua Credo Adesso c'è l'altro Da far fuori E come lo farai fuori Così Mi sembra regolare Andiamo avanti Guarda con Mobile Dan Lo vede il nemico Che sta volando E giustamente va di Headshot Ma riguardiamolo Perché lo vede Lo sente Lo percepisce Poi Bam Via Easy Prossimo clip Abbiamo ancora Arse Vabbè niente Tutti di Arse Sono oggi praticamente Allora Ah qua come sempre Vogliono fare la loro Bella kill E Pulito Ma riguardiamo ragazzi Perché Lui già and va via No Ricarica Aspetta un attimo Senza mirare Ma si Tanto lui va là Prendiamolo così Gran bella clip E quindi raga Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando un bel like Con iscrizione Con campanellina Tattica tantica Mi raccomando Continuate a mandarmi Tante altre clip Al modulo che trovate Giù nella descrizione Noi come sempre Ci mi chiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissimo Ciao Ciao